Sabato a partire dalle 21 sarà ancora una volta il tempo di meraviglia. La Kermes, che è giunta alla terza edizione, continua ancora a far parlare di sé e che anche quest'anno si propone di stupire il numeroso pubblico che arriverà dai comuni vicini, ma anche da fuori provincia. Gli spettacoli avranno per cornice uno scenario suggestivo, il sagrato della chiesa di San Giovanni e la piazza omonima, che si propongono come una quinta di straordinaria bellezza. E poi saranno loro e Baskers, gli artisti di strada e i veri protagonisti che con le loro esibizioni attireranno l'attenzione dei presenti. Dai giochi con il fuoco alle acrobazie, dalle giocolerie alle evoluzioni sul filo, ce ne sarà per tutti i gusti. E in attesa che il programma ufficiale sia pubblicato, già si annunciano tutta una serie di novità che non mancheranno di suscitare l'attenzione degli appassionati. Abbiamo un gruppo di persone, dice l'arciprete Don Marco Diara, che organizza l'evento, che non manca mai di essere presente, sono gli abitue, coloro che amano questo tipo di esibizioni e che non mancherebbero mai per nulla al mondo. Sono persone che arrivano da ogni parte del nostro territorio provinciale e che ci tengono ad essere tra il pubblico, possibilmente in prima fila. Anche quest'anno siamo pronti ad assistere a una serie di esibizioni di grande spessore che ci faranno trascorrere un'intera serata all'insegna della massima spensieriatezza. E naturalmente, a concluso Don Marco, ci saranno pure i ragazzini del Grest pronti a divertirsi ed applaudire tutti gli artisti di strada che si esibiranno.